5 uomini e 4 donne nella squadra di Nicola Fiorita, 7 sono esterni, il sindaco di Catanzaro ha presentato la squadra e la migliore possibile per la città. Vietato lavorare nei campi nelle giornate più calde, tra le 12.30 e le 16 il presidente della regione Occhiuto firma l'ordinanza che avevano sollecitato C.G. El Cisle e Uili. Motivi strettamente personali alla base delle dimissioni del commissario della ZES, zona economica speciale di Gioia, Tauro. Denunce e sequestri per 700 mila euro nei confronti di due imprenditori di lamezza e operanti nella grande distribuzione. Sfruttavano 79 lavoratori. Come in altre città, anche a Crotone sono entrate in funzione due cassette dell'acqua, 5 centesimi per un litro, grande risparmio nell'uso della plastica. Mercoledì 13 luglio 2022, ben trovati sul 15 per l'informazione regionale di Esperia TV. In apertura alla politica, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha avvarato e presentato oggi la sua giunta. Si tratta di 9 assessori, 5 sono uomini, 4 le donne, 7 sono esterni. Lo affiancheranno nell'amministrare il capoluogo di regione. I dettagli nel servizio di Antonio Capria. 4 donne, 5 uomini, una prevalenza di profili tecnici. Sono i 9 assessori, di cui 7 esterni, della giunta presentata dal sindaco Nicola Fiorita, che ha rimarcato i criteri delle sue scelte, competenza, capacità operativa, passione civile. Non è la giunta dei migliori, perché per me non esistono i migliori, ci sono sicuramente persone migliori di me, persone migliori di chi oggi viene a fare l'assessore in questo e in quel settore. È la miglior giunta possibile che noi potevamo offrire alla città di Catanzaro. Di questo sono convinto, sono convinto che siano tutte persone nuove, chiamate per la prima volta ad amministrare, in grado di dare una discontinuità, ma anche in grado di dare delle risposte alla città, anche in una sorta di patto generazionale che si consuma guardando la giunta e guardando le persone che noi metteremo a lavorare accanto alla giunta. La squadra di Fiorita, vice sindaco Giussi M, cardiologo dell'ospedale Pugliese, letta nella lista del PD, anche deleghe pesanti come l'urbanistica, le politiche del mare, il porto, i rapporti con il sistema sanitario. Altra donna nominata tra gli eletti in consiglio è Donatella Monteverdi di Cambiavento, docente della facoltà di giurisprudenza dell'Università Magna Grecia, avrà le deleghe alla cultura, all'istruzione e all'università. Gli esterni sono l'avvocato Aldo Casalinuovo, che ha rinunciato alla sua candidatura a sindaco per sostenere Fiorita, che sarà assessore all'ambiente. Già annunciati i nomi di Marinella Giordano, già dirigente della Polizia di Stato, che avrà delega alla sicurezza e dell'oncologo Bonaventura Lazzaro, delegato alle politiche sociali. Al bilancio l'ex funzionaria regionale Marina Mongiardo, ai lavori pubblici l'ingegnere Raffaele Scalise. Attività economiche, turismo, marketing territoriale e patrimonio vanno al funzionario di banca Antonio Borelli, in quota all'ex candidato a sindaco Antonello Tallerico. Allo sport una figura storica, come quella di Nino Cosentino, dirigente della FIGC. Il sindaco Fiorita trattiene le deleghe alla programmazione, alle partecipate, alla mobilità, alle politiche giovanili, con il supporto di alcuni consulenti esterni. In particolare sulla programmazione del PNRR, l'esperto Enrico Mazza. Per le cosiddette piccole cose, l'archeologa Paola Giglio, attivista grillina. Per le politiche ambientali, l'ingegnere Irene Colosimo. L'avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti, quale consulente giuridico. A me piacerebbe che questa giunta fosse un po' come l'Italia di Berzot. L'11 luglio, oggi quanti ne abbiamo? Quasi. Quasi. Vinceva il mondiale, anche attraverso uno spirito forze di squadra, una compattezza, magari senza la star, ma attraverso tante persone coinvolte. Fiorita ha rimandato ai prossimi giorni il tema della presidenza del Consiglio Comunale. Un nodo complesso da sciogliere, considerato che la maggioranza uscita dalle urne fa capo a Valerio Donato, candidato uscito sconfitto dal ballottaggio. Ora si presenta la giunta, la partita del Consiglio Comunale, una cosa per volta l'apriamo da domani. Il presidente della regione, Roberto Chiuto, su richiesta di CGL Cisle Will, ha emanato un'ordinanza che vieta con decorrenza immediata e fino al 31 di agosto le attività agricole nelle giornate ad alto rischio di calore termico, dalle 12.30 alle 16.00. Le giornate individuate saranno monitorate dalle stazioni di vigilanza competenti. Il provvedimento prevede anche sanzioni nel caso fosse denunciata l'inosservanza. Una scelta saggia e giusta, già operativa in Puglia e Basilicata, dicono i segretari regionali di CGL Cisle Will, Sposato, Russo e Biondo, che abbiamo chiesto per le tante lavoratrici e lavoratori del settore. La pagina economica si è dimesso per motivi strettamente personali il commissario della ZES, la zona economica speciale di Gioia Tauro. Federico D'Andrea non è più commissario della zona economica speciale di Gioia Tauro. L'ex ufficiale della Guardia di Finanza, come riporta la Gazzetta del Sud, avrebbe formalizzato nelle ultime ore le sue dimissioni alla guida della struttura per motivi strettamente personali. Dopo cinque mesi dalla nomina dell'ex finanziere, la zona economica speciale di Gioia resta nuovamente senza un capitano. La ZES è destinataria di rilevanti finanziamenti attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 111 milioni per la realizzazione di interventi strategici per il rilancio dell'area, a cui si aggiungono ulteriori risorse dedicate allo sviluppo portuale e infrastrutturale dell'intero territorio gestito dalla ZES. Ecco perché diventa urgente indicare il nuovo vertice, responsabilità che tocca al ministro per il Sud Mara Carfagna e lei ad essere stata delegata dal governo per la scelta del successore di D'Andrea, il quale aveva a sua volta sostituito la docente unical, Rossana Nistico. Intanto il segretario generale della UIL, Santo Biondo, sulla questione ha ricordato che nonostante diverse sollecitazioni, i sindacati non sono mai riusciti ad incontrare D'Andrea. C'è il sospetto, dice Biondo, che dalle aree industriali del centro-nord si tenda a frenare lo sviluppo delle ZES, nel timore che il baricentro delle politiche governative si sposti al Sud e in particolare su Gioia Tauro, la cui attività fa concorrenza a scali del Nord, come Genova, La Spezia o Trieste. Le dimissioni del commissario potrebbero essere una spia in tal senso. La cronaca, due imprenditori operanti alla mezzia terme nel settore della grande distribuzione sono indagati per sfruttamento di 79 lavoratori. Contestualmente, nei confronti degli imprenditori, sono stati sequestrati beni preventivamente per quasi 700 mila euro. sfruttamento dei lavoratori con retribuzioni in modo palesemente riforme dai contratti collettivi nazionali, violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, pressioni per la rinuncia a parte delle ferie, alle indennità per impiego nei giorni festivi e alle ore di straordinario, pena la mancata assunzione ed approvittando del loro stato di bisogno derivante dall'assenza di ulteriori opportunità occupazionali. Con queste accuse risultano indagati i due imprenditori del settore della grande distribuzione, amministratori di diritto di fatto di tre società di capitali, una delle quali ora fallite, per il reato di sfruttamento del lavoro ai danni di 79 dipendenti per fatti accaduti tra il 2016 e il 2017. L'operazione, denominata Marineri, è stata portata a compimento dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, che ha eseguito anche un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamesia Terme su richiesta della Procura della Repubblica per una somma di danaure per beni per un importo di 665 mila euro nei confronti degli indagati delle società per i quali è stata ipotizzata la responsabilità amministrativa. L'operazione Marineri rientra in un più ampio progetto investigativo sviluppato dalla Procura della Repubblica di Lamesia Terme in sinergia con il locale gruppo della Guardia di Finanza attraverso il quale si intende contrastare il pervasivo fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori. In tanti ieri sera Rocca a Bernarda, piccolo centro del Crotonese, hanno partecipato ad una fiaccolata per dire no alla violenza, la manifestazione nata dopo la vila aggressione nei confronti dell'ex primo cittadino Francesco Coco. Almeno un migliaio le persone che hanno partecipato a Rocca a Bernarda nel Crotonese alla fiaccolata in segno di solidarietà nei confronti dell'ex sindaco Francesco Coco, vittima di una brutale aggressione abbastonata mentre era nel cortile della sua abitazione. Coco, 73 anni, sotto ufficiale dei Carabinieri in pensione e da sempre molto attivo nell'antimafia è ricoverato all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Le sue condizioni sono in miglioramento. All'iniziativa hanno partecipato associazioni, cittadini e amministratori locali del territorio. È stata una manifestazione molto partecipata perché la gente vuole vivere in tranquillità, vuole che questo paese, questa comunità venga ricordata ed esca fuori dalle nostre mura, consentitemi questo termine, un messaggio reale del paese, che è un paese fatto di persone laboriose, di persone per bene, di persone che fanno sacrifici per mandare avanti le loro famiglie. Intanto il Tribunale dei minorenni di Catanzaro ha disposto la custodia in un istituto minorile per i due 17 anni accusati dell'aggressione a Coco. I due sono accusati di tentato omicidio pluriaggravato e violazione di domicilio. I minori non hanno risposto alle domande del giudice e al termine dell'udienza nei loro confronti è stata disposta la custodia nel carcere minorile. E poi c'è il Covid. Nelle ultime 24 ore in Calabria si sono registrati 3.178 nuovi casi. Ci sono tre decessi. Il tasso di positività è al 31,7%. Sul fronte ospedaliero oggi fortunatamente non si registrano nuovi pazienti in più nei reparti ordinari ma ci sono tre ingressi nelle terapie intensive. Oltre 1.200 le persone che risultano guarite o dimesse. Ancora una volta e a rischio il mercatino del primo giovedì del mese a Crotone si cerca un'area idonea per poterlo allestire. Oggi una delegazione di ambulanti ha incontrato il primo cittadino. Manca un'area idonea per allestire il mercatino mensile. Gli ambulanti di Crotone fanno sentire le proprie esigenze. Hanno chiesto e ottenuto un incontro col sindaco Vincenzo Voci che però al momento non potrà esaudire le loro richieste perché non è facile reperire in tempi brevi un sito dove ospitare l'appuntamento del primo giovedì di ogni mese. Allora l'iniziativa è perché ci sono dei problemi sull'allocazione del mercato del primo giovedì del mese. Visto e considerato che è sempre stato fatto lì da svariati anni e nessuno ha mai detto che non c'erano le norme di sicurezza addirittura hanno fatto la fiera della Madonna lì l'ultimo mercato che abbiamo fatto sono venuti guarda caso i vigili a controllare a prendere la foto a guardare la licenza i documenti e tutto il dirigente ha detto che lì non c'erano le norme di sicurezza quindi il mercato lo vogliono spostare. Adesso visto che a Crotone non esiste nessuna area dove fare il mercato come sulla Margherita avevamo chiesto se ci concedevano di farlo almeno per altri due tre mesi fino a quando non si trovava l'aria e raggiungevamo determinate accordi a fare entrare tutti gli ambulanti che sono regolarmente autorizzati ma purtroppo cioè non siamo arrivati a nessun accordo. Dobbiamo individuare un'area che stia bene a tutti che rispetti le condizioni di sicurezza e poi assicurare eventualmente un bando la regolarità degli accessi dei pagamenti queste sono cose altrettanto importanti. Dopo due anni di pandemia tutti gli ambulanti il settore del commercio ma altre categorie sono ovviamente in crisi però bisogna ritornare alla normalità piano piano e tutto ciò che concerne gli accessi per capirci l'occupazione di suolo pubblico è regolamentata da leggi nazionali ecco finché c'è stata la pandemia non è stato pagato il suolo pubblico adesso si deve tornare alla normalità anche da questo punto di vista però il problema ripeto adesso è quello di individuare un'area idonea. Restiamo su questa notizia perché c'è un aggiornamento in pratica è stata trovata la soluzione per il tradizionale mercatino del primo giovedì del mese si terrà inviare Regina Margherita come in passato ma tenendo conto di alcuni accorgimenti necessari per salvaguardare la sicurezza di cittadini ed operatori e quanto scaturito a seguito della riunione che il primo cittadino Enzo Voce ha avuto con gli operatori commerciali incontro che si è tenuto nella sala consigliare restiamo a Crotone ci occupiamo di acqua fredda liscia o gasata anche a Crotone sono entrate in funzione quest'oggi due casette dell'acqua vediamo hanno iniziato a funzionare a Crotone le due casette dell'acqua volute dal comune ed inaugurate oggi il prezioso liquido costerà 5 centesimi al litro le casette erogano acqua liscia fredda o gasata l'intento principale oltre al risparmio per i consumatori è quello di ridurre così notevolmente l'utilizzo della plastica per l'amministrazione guidata da Vincenzo Voce presente all'inaugurazione si tratta di un momento importante e simbolico nel segno del rispetto dell'ambiente diamo un segnale che va nel senso della tutela dell'ambiente la riduzione della plastica e va nel senso anche di proporre un prezzo calmierato per l'acqua pubblica quindi va nel segnale della tutela anche dell'acqua pubblica come principio e quindi che riteniamo sia un segnale importante ed era giusto dare avvio anche a Crotone a questo tipo di iniziative l'acqua che proviene dalla rete potabile della città viene filtrata con tecnologie moderne ed il cittadino può stare tranquillo circa la qualità poiché subisce controlli periodici le casette dopo una manifestazione di interesse sono state affidate alla società Saibabar SRL Saibabar è un'azienda che si occupa da tempo di distribuzione automatica quindi opera nel settore delle vending machine e da circa due anni abbiamo abbracciato questo progetto della depurazione delle acque ne installeremo ne abbiamo installate già due su Crotone e installeremo anche una terza noi facciamo impresa su questo territorio questo territorio ci dà tanto e abbiamo intenzione di restituire un servizio a questo territorio i cittadini di Crotone con l'inaugurazione di queste casette dell'acqua potranno riscontrare dei vantaggi in termini economici per il prezzo dell'acqua dei vantaggi in termini di sostenibilità perché ci sarà sicuramente una diminuzione del consumo di plastica una diminuzione di emissione di CO2 per la realizzazione della plastica sicuramente è un aspetto che non viene considerato ma che è molto importante che è l'aspetto sociale Voltiamo pagina il personale della Capitaneria di Porto di Vibbo Valencia ha accertato numerose attrezzature balneari posizionate sulla spiaggia in maniera illegittima nel comune di Ricadi sono stati rimossi ombrelloni e sdraio arbitrariamente posizionati consentendo di restituire così alla libera furizione la spiaggia abusivamente occupata Ed ora Castrovillari per la valorizzazione della cipolla bianca In una a due giorni a Castrovillari si è parlato della cipolla bianca della città del Pollino celebrando così l'ecotipo che ha ottenuto la Deco denominazione comunale Ma è partito un processo che spero possa essere un processo virtuoso per ora c'erano 7 ettari 1500 quintali prodotti di un prodotto che per ora è abbastanza ben valorizzato e quindi è una strada da seguire Abbiamo già fatto un buon cammino vale a dire abbiamo istituito la Deco sulla cipolla bianca abbiamo predisposto un disciplinare di produzione e abbiamo fatto registrare il marchio della cipolla bianca presso il Ministero dello Sviluppo Economico L'iniziativa dell'amministrazione comunale dell'ARSAC che dopo questo lungo iter burocratico amministrativo per la formulazione della Deco ora attraverso la De Giordi si è voluto valorizzarla ad ampio raggio per costruire un'economia sostenibile facendola diventare anche un attrattore enogastronomico per la città perché quello che è certo è che è un prodotto identitario molto buono che ha caratteristiche organolettiche di pregio però ancora abbiamo produzioni basse perché le superfici investite sono limitate subito dopo il convegno nel tratto sud di Corso Garibaldi insieme ai produttori custodi della cipolla bianca di Castrovillari si è dato vita ad uno street food unico e particolare che ha proposto al pubblico i piatti a base dell'ecotipo locale abbiamo da poco tempo trasformato in presidio slow food il fagiolo poverello bianco dell'areale di Mormanno Leino Borghe Leino Castello come tutti sanno è ingorso il lavoro di caratterizzazione del tartufo del pollino perché è fortemente avvertita la presenza sul nostro territorio oggi si aggiunge questo nuovo produzione la cipolla bianca di Castrovillari è stata pubblicata in preinformazione sul portale della regione Calabria la manifestazione di interesse per la realizzazione dell'offerta formativa di istruzione tecnica superiore la regione dice la vicepresidente Giussi Princi ritiene necessario promuovere e rafforzare sul territorio un'offerta di formazione tecnica superiore rispondente ai parametri europei a disposizione ci sono ora 3 milioni di euro la pagina dell'arte ci porta alla pinacoteca civica di Reggio Calabria aperto i battenti alla pinacoteca civica di Reggio Calabria la mostra dell'ora fu escultore Antonio Affidato dal titolo Rara Avis l'artista ha realizzato per l'occasione sei sculture in bronzo che ripercorrono il tema della Magna Grecia la mostra resta aperta sino al 9 settembre per me è un grandissimo onore poter esporre le mie opere quella che è stata la mia ricerca all'interno di un calendario e di un evento così prestigioso come il 50esimo anniversario del ritrovamento dei bronzi di Riace un evento che si sposa poi perfettamente con quella che è la mia ricerca che è appunto sulle raffigurazioni dei miti dei personaggi e delle varie personalità che hanno contraddistinto poi l'epoca Magno Greca curata da Emanuele Bertucci la mostra si inserisce all'interno del calendario delle manifestazioni previste per il 50esimo anniversario dal ritrovamento dei bronzi di Riace tantissimi gli ospiti che hanno voluto testimoniare con la loro presenza l'apprezzamento per il lavoro di un giovane artista tra questi il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti e l'assessore alla cultura della città dello stretto Irene Calabro rivela che c'è tanta attesa c'era tanta attesa ma soprattutto c'era voglia di ammirare il bello il bello che vediamo nelle opere di Antonio che un ragazzo nel corso della conferenza stampa lo abbiamo sottolineato un ragazzo di 26 anni che ha voluto non seguire le tracce del padre ma seguire l'ispirazione di una famiglia di un marchio che ci rappresenta a livello mondiale presenti anche rappresentanti del mondo dell'arte e galleristi che hanno voluto osservare da vicino le opere dell'artista affidato tra le tante personalità presenti una menzione va fatta al procuratore Gratteri che nel visitare la Pinacoteca ha avuto parole di grande apprezzamento per l'artista a me è colpito molto lo stile e la personalità l'interpretazione di personaggi del periodo greco dove non si conoscevano i volte e lui è riuscito ad interpretare il volto in base alla lettura in base alle gesta di questi guerrieri o di questi filosofi restiamo restiamo nel regino andiamo a Monasterace per la scopertura del mosaico dei draghi dell'antica Caolo dopo la chiusura dovuta ai lavori per la messa in sicurezza ha riaperto i battenti il parco archeologico dell'antica Caolo nel territorio di Monasterace Marina in tanti per poter visitare la sala dei draghi dei delfini dell'ippocampo al museo il parco presso il promontorio di Punta Stilo insiste sul sito del centro coloniale di Caolon fondato da Iachei Crotoniati il mosaico di particolare interesse scientifico per la sua fattura per la ricercatezza del tema figurativo e per le dimensioni è da considerarsi tra le testimonianze più significative riconducibili al centro magno greco di Caolonia identificato dall'archeologo Paolo Orsi un'opera di circa 30 metri quadrati databile tra fine quarto inizio terzo secolo avanti Cristo e colpisce per la particolare ricercatezza dei motivi e dei soggetti decorativi scelti noi vorremmo che il mosaico fosse fruibile sempre 365 giorni all'anno trattandosi come dicevamo con l'architetto di un mosaico di eccezionale importanza la fruizione è molto limitata perché quest'anno grazie alla iniziativa della direttrice facente funziona della titolare del direttore Lemma si è pensato di farla durare più a lungo la scopertura però noi contiamo molto sulla prospettiva che c'è che ci dovrebbe essere grazie al finanziamento di un milione e mezzo che dovrebbe vedere la copertura lei mi assicura che c'è è prevista la copertura è partito io posso solo dire che è partito perché è su pubblico canale la gara per la giudicazione dell'appalto con Invitalia che tratta tutto un insieme di interventi tra cui la copertura ma tra cui la messa a restauro di tutta la parte delle strutture tra cui anche una serie di pannellistiche come sapete le procedure a trasparenza e a ricordi legge hanno bisogno di tempistica però non dobbiamo farci spaventare le tempistiche perché finalmente abbiamo la pubblicazione ormai da circa un mese e mezzo per cui credo che andremo e andremo diciamo a lavorare e a sistemare quello che piano piano diciamo c'è da sistemare in un parco che nulla che invidiare ad altri parchi che tempo farà nelle prossime ore ce lo spiegano anche questa sera gli esperti di trebimeteo.com un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebimeteo nella giornata di giovedì l'alta pressione africana che continua a dominare la scena del Mediterraneo occidentale tenderà sempre più a invadere il nostro paese determinando condizioni in generale stabilità e anche un ritorno del gran caldo a partire da oggi ma poi nei giorni successivi sarà sempre più intenso per quanto riguarda la nuvolosità poco da segnalare giusto qualche annuvolamento di passaggio al nord un po' più frequente sui settori alpini dove qui non mancherà qualche isolato scroscio di pioggia per il resto tanto sole ma vediamo quindi la situazione sul nostro paese prevista proprio per la giornata di giovedì appunto il sole sarà il protagonista da nord a sud e con esso anche le temperature in aumento in particolare al nord sull'alto versante tirrenico con punte anche superiori ai 35 gradi da segnalare giusto un po' di variabilità come dicevamo sull'arco alpino centro orientale durante il pomeriggio dove non mancheranno isolate precipitazioni ma per maggiori dettagli come sempre consultate l'app di Trebi Meteo è tutto per il momento grazie per l'attenzione ci vediamo più tardi grazie per l'attenzione